Nel video che ho preparato per voi oggi ci sono due contenuti di repertorio. Si tratta di alcune immagini prese dalla macchina da presa proprio direttamente durante la conferenza di Alta, quindi sono delle registrazioni fatte dai cineoperatori con gli strumenti dell'epoca della conferenza di Alta in Crimea che compongono un videogiornale e nel secondo video invece ci sarà l'offensiva delle Ardenne. La meeting at war-torn Malta è solo preliminare alla fine con Marshal Stalin. La conferenza di mediterraneo dei militari militari di Militari è preso nella stagione di montgomery house. Qui si tratta una serie di talk che avrebbero profondamente influenzare il futuro di diplomatica e politica del mondo. Field Marshal Alexander di Mediterraneo e General Brayon Somerville e Admiral King attendi. But the meeting really gets down to business at Yalta, former Crimean summer capital of the Tsars. Anthony Eden, Foreign Commissar Molotov, and Secretary Stettinius are on hand to greet England's Prime Minister. Hoping to solve intricate problems of war and peace, President Roosevelt reaches the Yalta meeting, accompanied by his daughter, Mrs. Anna Bonnaker. These are Army Signal Corps pictures of an historic world meeting that will shape the destiny of future generations. The summer palace of Tsar Nicholas II is the setting for Russia's welcome. The conference is to seal Hitler's fate and establish lasting peace, and is attended by Presidential Advisor Harry Hopkins with Mr. Eden. The host arrives, Joseph Stalin, Chairman of the Council of People's Commissars of the Union of Soviet Socialist Republics. Not since the Tehran Conference 14 months ago have the three top executives of Allied Strategy and Diplomacy met. Meantime, the results of that first meeting were bearing fruit on Germany's eastern and western borders. Come vi ho detto, quando sembrava che l'esercito tedesco fosse già oramai sconfitto, ecco che inizia questa offensiva nelle Ardenne, per riuscire a prendere il porto di Anversa. Le immagini che ho scelto per voi sono tratte da un cine-diario, cioè un cine-giornale, pensato dai tedeschi come video di propaganda, perché si voleva ancora nel 1945 convincere la popolazione che la guerra non era perduta, ma che anzi c'erano ancora delle divisioni tedesche che stavano continuando a combattere e che quindi avrebbero portato avanti la loro offensiva. Come sappiamo invece poi, nonostante l'offensiva delle Ardenne, Berlino cadde quello stesso anno. Quindi vi auguro buona visione, anche questo secondo filmato è molto breve. Il primo è stato un'attività di un'attività di un'attività, Un'altra volta dopo l'anno di un'attività di un'attività di un'attività di un'attività. Storngeschutze e Panzer sono in potenza di un'attività di un'attività di un'attività. Un'attività di un'attività di un'attività di un'attività consapev siguem dov'ção in un'attività di un'attività di un'attività. Hoche還istsين amerikanische Infanterie. Di uns danxi per�� schema di un'attività di un'attività di un'attività di un'attività. Sì. 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 in un Dorf un. Malchorni e lavoratori hanno lavorato a una delle americane ortezza per l'amore. Con la supporto di Pansom si sono iniziati a casa um a casa. Gernadierer e Falschornjäger in Strachenkamp. Kopp schüttelnd und oft völlig verstört kommen die Amerikaner aus den Häusern. Ein ganzes Regiment geht mit der weißen Fahne in die Gefangenschaft. Durch Panzer und Panzerfaust vernichtete Schirmen. Amerika first, Amerika foran. Ein Feldkernsprecher in einem erbeuteten Wagen wird von deutschen Landshorn untersucht. Oberst Truppenführer und Generaloberst der Waffen-SS, Sepp Siebricht, beim Vormacht unter seinen Männern. Das sind Stimmung und Haltung des deutschen Grenadiers im sechsten Sichtjahr. Über den Köpfen der Truppe Orgel V1. Hier gingen Tod und Vernichtung über die Felder. Die Materialreste einer verschlagnfeindlichen Infantiefrigade. Schirmenpanzer, die ein deutscher Feuerschlag schon in der Bereitstellung vernichtete. Nachschubkolonnen rollen nach vorn. Von allen Seiten strömen gefangene Amerikaner auf die Vormachstraßen. Verschlagen und noch zermürbt von der plötzlichen Gewalt des deutschen Feuerschlages schleppen sie sich dahin. Ihre Gesichter sind von einer stumpfen Nüchternheit. Zukong-Nüchternheit Wir sehen uns Top 20. Grazie a tutti.